Star Wars Day a Roma in Italia, il primo della storia, abbiamo dovuto aspettare dei decenni per avere questo grandissimo evento anche qui da noi e siamo al Colosseo, May the Force be with you, oggi è il 4, Force 4 e regia possiamo girarci e inquadrare questa location unica che gli americani sicuramente ci invidieranno anche in questo momento potete vedere la gente, oggi è una giornata nuvolosa ma non sta piovendo, ringraziando Dio ecco il Colosseo e qui abbiamo un caccia, caccia X-Fighter, abbiamo anche il fotografo perfettamente in sincronismo entrato nel campo ecco questo è il caccia dei ribelli, anzi questo è il caccia imperiale, un momento, questo è il caccia della flotta imperiale che viene usato già dai primi momenti, possiamo tornare di nuovo nel punto di prima ecco lentamente, possiamo fermarci anche qui e quindi dicevo questo non è il caccia dei ribelli ma è il caccia delle forze imperiale, dell'impero che anche Darth Vader il grande uomo in nero con l'elmetto e con la faccia quasi da teschio il padre di Luke Skywalker ha guidato diverse volte quindi possiamo chiudere e chiudiamo con l'immagine del logo il primo in Italia e con il Colosseo, grazie regia 4 maggio 2014 l'abbiamo